E' considerato una leggenda del bodybuilding, Piero Nocerino, quattro volte campione del mondo, famoso per le sue enormi braccia, ha incontrato sportivi, fan e curiosi in una palestra di Soverato per quella che è stata definita la notte del campione. Una vera e propria lezione, promossa dal progetto culturale Naturium di Giannis Gros e patrocinato dall'Oxen, sull'allenamento e la nutrizione, passando per miti e leggende da sfatare senza trascurare il bodybuilding al femminile. Si sta creando, secondo me, una certa mentalità un pochino più, si perdoni, laica, nel quale il corpo è un involucro che ci è stato comunque donato dal Padre Eterno e bisogna cercare di gestirlo nel miglior modo possibile. Però, insomma, se il buon Dio o chi per lui ci ha donato questo corpo e ognuno lo vuole gestire anche in maniera estetica, non c'è nessun peccato a voler essere belli, insomma. Un percorso personale fatto di successi che il noto culturista da più di 30 anni ha trasformato in insegnamento per i suoi allievi, coniugando alla sana attività fisica quotidiana il massimo dei risultati dal punto di vista estetico e funzionale. Non c'è stato un solo minuto nella mia vita in cui ho considerato quello che ho fatto come un sacrificio. Sebbene magari i miei genitori lo considerassero tale ai tempi, o le persone che mi sono state accanto, che magari non capivano quello che facevano, l'abbiano considerato. L'abilità sta nel capire da parte di chi non capisce queste cose, di avere un'elasticità mentale, nel comprendere che non siamo tutti uguali e ognuno deve tendere verso quello che sa e che vuole fare.